Chi era Wilfrid Wojnic e cosa faceva in Italia? Wilfrid Wojnic era un polacco naturalizzato inglese ed era un commerciante di antichità e di libri rari. Wojnic venne in Italia presso Frascati, anzi presso Mondragone nei pressi di Frascati. Venne in Italia alla ricerca di antichità e di libri rari, come dicevamo, visto che era la sua professione. Si recò presso il collegio Gesuita di Villa Mondragone ed era l'anno 1912. Il contatto tra lui e i Gesuiti di Villa Mondragone fu padre Giuseppe Strickland, Joseph Strickland per le cronache, morto poi nel 1915. In suo ordine, appunto, i Gesuiti avevano bisogno di ristorare la villa e altri possedimenti, quindi vendettero a Wojnic ben 30 volumi antichi. Alcuni di questi volumi venivano dalla biblioteca di Roma. La beffa era che questi libri erano stati spostati lì, appunto, per non essere requisiti dal nuovo regno d'Italia e invece in parte furono venduti per la restaurazione di questa villa e di questi possedimenti. Tra questi libri, Wojnic, ne scoprì uno che non si conosceva l'origine, non si conosceva il titolo, non si capiva cosa fosse. Era un libro molto particolare. All'interno di questo libro trovò una lettera di Johannes Marcus Marsi, che non era altro che il rettore di Praga e medico reale, medico di Rodolfo II di Bohemia. Scriveva, mandava il manoscritto a Roma e scriveva l'amico poligrafo Athanasius Kirser perché leggesse il libro e cercasse di decifrarlo. Nella lettera in cui l'intestazione era Praga, 19 agosto 1665, Marci affermava di aver ereditato il manoscritto medievale dal suo caro amico, che in seguito, dopo le ricerche effettuate dai vari studiosi, è stato individuato come l'alchimista George Barash. Solo successivamente questo scritto venne acquistato appunto da George Barash dall'imperatore Rodolfo II, che l'aveva acquistato per 600 Ducati, una cifra notevole per l'epoca, perché credeva che fosse un'opera di Ruggero Bacone. Quindi alcuni studiosi ritengono ancora oggi che sia il vero scrittore, il vero compositore di questo codice sia Ruggero Bacone. Infine, la proprietà del manoscritto passò poi da Voynich al noto commerciante ed esperto di libri antichi Hans-Peter Krauss, che lo donò all'Università di Yale e che lo conserva ancora nel Beneckek Rare Book, nella libreria praticamente del campus, archiviato con il numero diventario MS408. Come viene detto in nessun video e nessun scritto attuale sul codice Voynich è che in America la National Security Agency e il Central Security Service hanno interpretato e hanno decodificato almeno parte di questo codice. Come siamo venuti a saperlo? Siamo venuti a saperlo quando in anni recenti il Presidente Trump e altri Presidenti prima di lui hanno mano a mano desecretato alcuni dei verbali dell'NSA che ritenevano non più causa di segretezza, per cui li hanno desecretati. Uno di questi documenti, il numero 3 del giugno del 78, parla appunto del codice Voynich e dà alcune piccole traduzioni che adesso poi vi metterò qua, che potete vedere, potete apprezzare di persona. Ma prima di parlare della decretazione ottenuta dall'NSA, parliamo ancora del codice. Il codice è un volumetto di dimensioni piuttosto ridotte, 16 cm x 22, quindi 16 di larghezza e 22 di altezza, e 5 cm di spessore del totale volume. Le pagine non tutte sono singole, alcune sono delle pagine ripiegate molto più grandi, quindi ripiegate una o due volte. Sebbene il manoscritto fosse in origine formato da 116 fogli divisi in 20 fascicoli di diversa consistenza, 14 fogli, il numero 12, il 59, il 64, il 74, il 91, il 92, il 97, il 98, il 109 e il 110, mancano all'appello, non si sa né quando né come sono andati dispersi o strappati dal volumetto. Diversi fogli, come dicevamo, sono addirittura poi di dimensioni maggiori del volumetto e quindi sono ripiegati in due o in tre volte. Fa corredo al testo scritto e serie di illustrazioni a colori, ritraendo i più svariati oggetti. Proprio i disegni lasciano intuire la natura dei vari capitoli, o se vogliamo, di vari argomenti trattati all'interno del codice Voynich. In base a questi disegni e a qualcosa che si è capito, che gli scienziati e i vari traduttori hanno cercato di capire, sono stati divisi questi capitoli, questi fogli, in quattro sezioni. La sezione 1 è chiamata sezione botanica e contiene circa 113 disegni di piante sconosciute. La sezione 2 è chiamata sezione astronomica o astrologica, presenta 25 diagrammi che sembrano richiamare le costellazioni. Si riconoscono anche alcuni segni zodiacali. Anche in questo caso risulta alquanto arduo stabilire di cosa però effettivamente trattano questi disegni, se sono transizioni stellari, se è la mappa stellare di alcuni momenti storici. Non si capisce bene. La sezione 3 è chiamata la sezione biologica. La nomenclatura è dovuta alla presenza di diverse figure femminili nude, tra le altre cose, sommerse in vasche intercomunicanti, contenente di liquido oscuro. Ci sono insomma delle provette, delle cose, e quindi si presume che si parli di biologia o di qualcosa inerente alla fisiologia umana. La sezione 4 invece è detta sezione farmacologica. Per via delle immagini, delle ampolle, delle fiale, delle forme analoghe, a quelle contenute all'epoca, utilizzate all'epoca, per estrarre i principi attivi, i principi benefici, dalle piante, dalle erbe medicinali, dalle radici. C'è poi un'ultima sezione del manoscritto che comincia dal foglio numero 103 e prosegue fino alla fine. Lì vi si figurano solo stelline e righe e si crede che si tratti di una sorta di indice che non è poi stato completato. Secondo la datazione al carbonio, fatta su alcuni pezzettini di pergamena, appunto, il volumetto è stato datato in un periodo compreso tra il 1404 e il 1438. Però non si sa né chi l'abbia scritto né il perché. Molti sono stati tentativi di traduzione come anche di datazione, in quanto poi ci sono alcune note a margine, alcune scritture in latino o in lingua medievale, ma erano note, prese a margine, da chi anche in quell'epoca tentava di tradurne qualcosa, di estrarre qualche nozione su quanto scritto in questo libro. Il primo che affermò in tempi più moderni di aver tradotto, di aver trovato un filone, un qualcosa in quanto scritto fu William Newbold, un professore di filosofia medievale dell'Università della Pennsylvania. Nel 1921 pubblicò un articolo in cui proponeva un elaborato, un arbitrario procedimento con cui tradurre il testo che secondo lui sarebbe stato scritto in un latino camuffato, addirittura, come dicevamo appunto prima, da Ruggero Baccone. La conclusione della traduzione fu che già nel tarlo medioevo ci sarebbero state conoscenze e nozioni sia di astrofisica che di biologia molecolare. E quindi questi rapportini parlavano appunto di biologia molecolare e di astrofisica. Negli anni Quaranta invece un altro criptografo, Joseph Martin Phil, assieme a un compagno di studi, Leonel C. Strong, applicarono al documento di sistemi di decifratura sostitutiva, cercando di ottenere negli anni successivi, durante questo studio, un testo con caratteri latini chiari. Il tentativo produsse però un risultato che non dava nessun significato e quindi anche questo tentativo fallì. Nel 1945, il professor William Friedman costituì a Washington un gruppo di studiosi, proprio atti a tradurre, a cercare di trovare il mistero del codice Voynich. Edi optò per un approccio più metodico e oggettivo nell'ambito del quale emerse una cospicua ripetitività nel linguaggio. Quindi molte parole scritte in alcune parti del testo venivano poi riproposte in altre parti del testo. Si arrivò poi nell'87 a dire con Leo Levitov che questo testo non poteva essere altrimenti scritto che sono catari, quindi questi eretici, considerati eretici all'epoca, catari che pensavano di aver interpretato come mistero di diverse lingue mediovali con questo scritto la cultura catara, quindi di aver interpretato e quindi trascritto la loro cultura attraverso questo testo che era un insieme di antiche lingue medievali. si tentò di tradurlo anche col metodo cardano, quel metodo inventato dall'italianissimo Girolamo Cardano, ma anche questo non portò a risultati concreti. Insomma, tutte le traduzioni fino ad oggi non hanno dato un risultato concreto sul significato vero e sui contenuti di questo misterioso libro. La scrittura è scritto un romanzo scritto da Michael Cordy intitolato Il manoscritto di Dio in cui il protagonista è proprio questo libricino del Codice Poinici. Se ne parlò anche in un'avventura del noto fumetto italiano Martin Mister con gli editori in cui si parla sia degli uomini in nero che di Atlantide. Al lato saliente cioè a quello che la NSA americana è riusciuta a tradurre. Intanto ha tradotto vari aspetti non l'intero libro non il significato dell'intero libro ma vari aspetti e ha identificato alcune cose. Ha identificato anche alcune parole tra cui la parola erba che in cui si descrive appunto nella parte chiamiamola così biologica dove si parla di biologia nella parte biologica questa parola erba viene utilizzata e viene utilizzata parlando di alcuni tipi di erba che possono essere utilizzate come medicinale come farmaco e viene utilizzata ponendo in evidenza alcuni principi attivi alcuni fattori che non sono riusciti a testè ad oggi tradurre. Viene anche spiegata tutta una nomenclatura tutta una predisposizione organica tipo tabella chimica di cui però non sono riusciti a capirne l'utilizzo. Questo e altro fu scoperto lo troverete nelle pagine di cui vi posterò il link qua sotto dove ci sono i vostri commenti quindi troverete qua sotto nella tabella spiegativa anche il link per andare a vedere quanto scoperto dall'NSA. Fu scoperto molto se anche a noi sembra poco tanto da indire un convegno nell'anno 1976 in cui cercare di capire insieme a vari professori studiosi mondiali come procedere ulteriormente per la traduzione. Purtroppo poi però il materiale desecretato si ferma qua e non c'è lato sapere cosa hanno scoperto ulteriormente dopo. Per il segreto del codice Voynich è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale aiutatemi a crescere mettete un bel like condividete il video ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti da Armando ciao ciao